Il paziente oncologico è una persona sottoposta a numerosi stress, è una persona costretta ad affrontare situazioni inattese legate soprattutto alle varie fasi della malattia, dalla diagnosi alla terapia, alla remissione, al possibile aggravamento della stessa patologia ad una eventuale recidiva. Momenti duri sia per il malato che per i familiari. Come è possibile ritrovare un po' di serenità in questo contesto? Ad esempio, arteterapia e musicoterapia, che contributo possono dare? Lo chiediamo a due specialisti che da anni operano, lavorano a contatto con pazienti oncologici. Ve li presento subito e volentieri. Buongiorno e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Roberta Mininni. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno. Arte terapeuta, lavora a Vasto. Buongiorno e benvenuto ai nostri studi al dottor Luca Raimondi. Buongiorno. Buongiorno. Musicoterapeuta, anche lui opera nel Vastese. Lavorate dove, dottoressa? Noi questi progetti li portiamo avanti da circa 5 anni all'interno del reparto oncologico dell'ospedale Sampio di Vasto. C'è una buona collaborazione e sinergia con l'associazione all'interno del reparto, proprio con l'associazione Onlus La Conchiglia, grazie anche alla disponibilità che ci è stata fornita dal direttore del reparto di oncologia, che è il dottor Nicola Dostilio. Raimondi, anche lei 5 anni che lavora in questo reparto diretto al dottor Dostilio? Sì, anche io. Stessa cosa. Ci occupiamo fondamentalmente dell'aspetto psicologico del paziente. questo io tramite la musica. Immaginate che un paziente oncologico entra dentro il reparto per la prima volta e trova e scopre un mondo completamente nuovo. Completamente nuovo. Ed è chiaramente anche impaurito dalla diagnosi che gli è stata appena fatta, tutto quello a cui andrà incontro. Dottoressa Minini, entriamo nel dettaglio. Come l'arteterapia può essere utile per i malati oncologici? Allora, è un percorso, l'arteterapia è un percorso, è un viaggio, un riscoprirsi. Allora, il malato oncologico viene a contatto con una realtà molto dura e ardua da affrontare. La vita si blocca e quindi ci stanno all'interno di ogni paziente c'è un tramutarsi di emozioni e di sensazioni di come affrontare la vita in quel momento. C'è un disagio. E quindi attraverso questo laboratorio di arteterapia il paziente ha la possibilità di esternare le proprie emozioni, le proprie paure, le proprie ansie. Sembra paradossale questo, ma è quello che avviene durante questi laboratori. Che rapporto c'è tra arte e malattia? Allora, è un rapporto abbastanza sinergetico quello tra arte e malattia. Ricordiamo famosi artisti come Frida Kahlo, Van Gogh. Loro anche avevano dei rapporti con la malattia e quindi si sono riversati sull'arte e lì hanno dato la maggiore espressione del loro disagio. Quindi è un linguaggio tacito quello che sta avvenendo in quel momento. È un riscoprirsi. Un riscoprirsi e dare la loro presenza, la loro impronta. Dove la praticate? In corsia? In un laboratorio? Il paziente è solo oppure è in gruppo durante queste sedute di arteterapia? Allora, l'arteterapia viene effettuata all'interno della corsia. In fondo c'è una bellissima vetrata con dei tavoli dove i pazienti possono accomodarsi e quindi hanno la possibilità di lavorare con i materiali a loro disposizione. Questi che stiamo vedendo in queste diapositive sono dei lavori che sono stati fatti dai materiali? Sì, sì, sì. Pittura, scultura, collage, tutto quello che il paziente deve avere la possibilità di associarsi liberamente al materiale con cui vuole lavorare. Io metto a disposizione vari materiali, quindi loro hanno la possibilità di avvicinarsi all'emozione giornaliera perché cambia in base allo stato proprio giornaliero. Lo stato d'animo del paziente di quel giorno. Abbiamo visto una serie di disegni fatti in un giorno, in un solo giorno. Sì, sì, sì. Il paziente esterna quindi l'emozione giornaliera, le sue anze. Ecco, qui ad esempio in questa foto la paziente mi diceva quel giorno che era arrabbiata. E ovviamente ha usato il nero, però poi è iniziato a rilassarsi e quindi è iniziato a prendere altri colori perché c'era una ricerca di… iniziava a rilassarsi. Infatti è passata a colori meno tetri, diciamo così, il giallo. Vado a Luca Raimondi. Abbiamo parlato di arteterapia. La musicoterapia invece come può essere di conforto in queste situazioni? Partiamo dal presupposto che la musica è un farmaco naturale che possiamo trovare ovunque. Da quando ci svegliamo la mattina fino a quando ci addormentiamo. In più ci ha accompagnato anche nel grembo i primi nove mesi e l'importanza della musica in un reparto è scegliere realmente che tipo di musica bisogna far ascoltare. Ad esempio una classica radio dentro un reparto è sconsigliabile perché potrebbe passare qualsiasi genere di musica. Invece l'accoglienza che deve fare un musicoterapeuta in una seduta, diciamo un'accoglienza musicale anche, di trovare la musica adatta in quelle situazioni. Comunque è una musica che il paziente piace. Qui siamo passati alla chitarra. Sì, quindi praticamente qui mentre sto facendo, c'è comunque questo anziano signore, li sto accompagnando perché lui amava sentire le canzoni con la chitarra e quindi ovviamente l'importanza, come dicevo prima, è trovare delle musiche che rispecchiano un po' il loro essere, i loro ricordi, facendo emergere comunque bei ricordi. Bei ricordi. Bei ricordi. Quando inizia questa terapia, appena presa la diagnosi, la musicoterapia naturalmente, durante la cura anche per pazienti che stanno facendo chemio, radioterapia, nel post intervento può essere utile in qualsiasi fase della malattia? Noi in reparto lavoriamo gran parte delle volte mentre fanno la chemio. però può capitare tante volte anche dopo l'operazione che comunque il paziente ha bisogno di tranquillità, di serenità, di distacco. Tutto questo viene fatto dentro le stanze dove ci stanno le poltrone, dove i signori pazienti comunque sono comodamente seduti. però comunque fondamentalmente mentre fanno la chemioterapia. Senta, è musica d'ascolto, cioè il paziente sta solo ad ascoltarla oppure in determinate situazioni può essere anche coinvolto, magari se è un paziente che sa suonare qualche strumento si accompagna a lei? Allora, ogni seduta è sempre diversa dall'altra perché ci sono tanti metodi per fare musicoterapia. Sia quella d'ascolto dove il paziente sta comodamente seduto, dove io sto al piano e faccio ascoltare delle musiche che comunque il paziente preferisce. Però ci sta anche la parte della musicoterapia attiva dove il paziente canta, si accompagna a volte anche con la chitarra. Qui vediamo un paziente che suona. Bravo, che si accompagna anche con la chitarra. E dove ovviamente si crea anche un piccolo concerto dentro il reparto perché poi ci stanno quelli che vogliono solamente ascoltare, quelli che fanno il coro e diventa una cosa fantastica, anche inaspettata. Beh, si crea una bella atmosfera, sicuramente. Sì, una bella armonia. Dottoressa Minini, quante volte alla settimana, quanto dura una seduta? Adesso, al di là del vostro caso, quanto è consigliabile praticare l'arteterapia? Per quante volte alla settimana? Tutti i giorni? No, l'arteterapia non va praticata tutti i giorni. Noi all'interno del reparto effettuiamo due incontri alla settimana. Due incontri alla settimana con i laboratori che propongo e la durata non va oltre un paio di ore. Un paio di ore? Sì, comunque il paziente dà il massimo in questi laboratori e alla fine ci si stanca. Non dimentichiamo che loro comunque... Noi ci incontriamo durante la chemio e quindi fanno le loro terapie. È pur vero che loro si concentrano totalmente durante la creazione e quindi dimenticano spesso che devono stare attenti a come si devono muovere e loro lo dimenticano. Però poi si stancano perché comunque creare, anche dipingere, porta dopo un po' di tempo a volersi rilassare. Stiamo vedendo, stanno facendo dei lavori meravigliosi. Sì, loro qui è un lavoro fatto con la carta, manuale totalmente, la pittura. Questa pittura? C'è un ampio spazio di scelta. Come si svolge la seduta? Come viene coinvolto il paziente? Lei dà un tema che loro devono trattare o è a libera espressione? L'arte terapia è libera espressione. Libera espressione, ecco perché io amo mettere a loro disposizione un'ampia possibilità di scelta dei materiali. Infatti io propongo anche il laboratorio di bigiotteria. Il laboratorio di scrittura creativa abbiamo visto? Di scrittura creativa, sì, perché ho voluto proporre questi progetti ad ampio spettro proprio per dare la possibilità al paziente di rivolgersi a varie proposte. Magari c'è le signore, le donne che hanno una propensione maggiore alla creazione della bigiotteria o la scrittura creativa. Infatti abbiamo scoperto dei poeti nascosti con un gioco abbastanza simpatico che ho proposto loro. Quindi associare durante delle letture delle parole e metterle insieme secondo al loro piacimento. Cosa tira di più? La scrittura creativa, la bigiotteria, la pittura? Guarda, la bigiotteria sono veramente, anche gli uomini si sono avvicinati molto a questa cosa perché pensano anche alle loro compagne, alle figlie, quindi conoscono i gusti. È bellissimo vedere che loro vogliono creare qualcosa per l'altro. Poi li portano via. Ah se li portano via? Sì, 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 li portano con loro. In la bigiotteria cosa lavorano? Ho visto anche delle conchiglie. Sì, sì, abbiamo delle conchiglie, queste sono perle, creiamo orecchini, bracciali, collane, portachiavi. Veramente sono... Loro si riscoprono perché tramite questi laboratori loro vedono che hanno una propensione per varie cose, è una... Inaspettata, magari perché non l'avevano mai fatta in loro vita. Sì, inaspettata. Vado da Luca Raimondi, dove, come, l'abbiamo detto, c'è, ci sono sia le sale dove viene fatta la chemioterapia oppure in reparto, una seduta come si svolge nel suo caso di musicoterapia e quante volte la svolta? Ho un setting di strumenti, di solito, pianoforte, chitarra... One man band, è un uomo band musicale. Chitarra, flauto, strumenti a percussione, dove, a differenza dell'arteterapia, la musicoterapia ha bisogno di una piccola scheda dove, cioè, devo sapere la colonna sonora della vita del paziente, perché non posso suonare, ovviamente, musiche che a loro comunque non piacciono. E... Si svolge così, sono tutti quanti seduti e... Io con questo strumento comincio a... ad intonare queste canzoni che, che bene o male già so che piacciono, però... devo stare molto attento a... a controllare, a vedere se il... Il coinvolgimento dei pazienti. Il coinvolgimento, il coinvolgimento dei pazienti, se vogliono uno strumento musicale, se possono comunque muoversi, se riescono comunque a muovere il braccio, e... Qui, in questo caso, ad esempio, c'è una signora che piaceva la musica spagnola. Ho intonato questo, questo, questo pezzo e la signora si è alzata e ha cominciato a muoversi, a ballare. Ed è stato bellissimo perché... Nonostante fosse attaccata al farmaco. Sì, è stato bellissimo perché la signora si lamentava continuamente che lei amava tantissimo il ballo, però non aveva questo stimolo più di andare... di uscire la sera a ballare. L'ha recuperato, l'ha ritrovato in corsia. Sì, la magia della musica è stata... Ho chiesto, vabbè, signora, che musica le piaceva ballare da quando era ragazzina. E ho detto, mi piace questa canzone. Fortunatamente la sapevo e lei si è alzata, ha cominciato a... Penso che deve avere un bel repertorio ricco per accontentare tutti i gusti dei pazienti. Sì, questo diciamo che è abbastanza difficile, però ho il tempo, una settimana, ad esempio, scrivo le canzoni che piacciono e quindi mi comincio a studiare determinate cose. A volte, ovviamente, è anche impossibile eseguire alcuni pezzi. Quindi faccio anche musica d'ascolto tramite tablet oppure cd che portano i pazienti. Abbiamo preparato... Il nostro ospite ci ha portato un video, lo possiamo mandare in onda, lasciando la base musicale, tra l'altro una canzone molto nota, e poi chiederò a lui che tipo di vantaggi ottiene un paziente che pratica, appunto, queste sedute. Vediamo questo video. Grazie. 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 La canzone l'avete riconosciuta tutti, Imagine di John Lennon. Ecco, in questo caso, intanto che cosa faceva il paziente con quel setaccio e quelle piccole sfere di, penso, di ferro? Questa setaccia, come lo chiama lì, si chiama oseandram, quindi il tamburo... Chiedo scusa solo un po'. Il tamburo del mare. Però assomiglia a un setaccio. Sì, esatto. E dove la paziente in questo momento mi sta accompagnando su questo pezzo, facendo questa base del mare. Quindi è uno strumento musicale quello? È uno strumento musicale. Perché la signora, in quel momento, aveva bisogno comunque di relax, perché ama il mare e mi ha chiesto proprio, ho detto, fammi una bella canzone dove mi rilasso. Ovviamente sapevo che gli piaceva il mare e ho fatto questa piccola improvvisazione di Imagine. E in questo caso si chiama musicoterapia attiva, perché il paziente suona, partecipa attivamente. E io sostengo comunque con il pianoforte. Allevia ansia, stress, musicoterapia. Sì. Voglio anche sfatare questo concetto perché tutti quanti dicono musicoterapia così mi rilasso. Sì. Ci si può rilassare, alleva l'ansia, però tante volte deve dare energia. Quindi in un reparto oncologico gran parte dei pazienti hanno bisogno comunque di energia. Però mi è capitato tante volte che dei pazienti avevano disturbi del sonno, che non riuscivano a dormire durante la chemio, che si volevano riposare e mi è stato detto oggi ho dormito, grazie perché la tua musica mi ha fatto dormettare. Dottoressa Minigni, l'arte, l'arte terapia, sostituisce le parole, in certe situazioni può alleviare la sofferenza fisica, psicologica del paziente, può arginare lo stress? Certo. La pratica artistica e quindi creativa è un'espressione tacita non parlata del paziente in cui lui riversa tutte le sue emozioni e questo ovviamente mette da parte in quel momento durante l'atto creativo c'è un benessere psicofisico del paziente dove lui riesce ad allentare le sue tensioni, le sue paure, le sue ansie e quindi prende in un certo senso le redini del suo corpo e della sua vita. Qui stiamo vedendo delle foto scattate immagino da lei che durante le sedute di laboratorio di scrittura creativa questi sono anche poeti in erba come ci ha detto lei hanno scoperto una vena poetica che è magari insospettabile. Sì, guardi il lavoro è questo praticamente loro leggono prendono delle parole spunto da parole che trovano interessanti e poi le rimettono insieme a loro piacimento quindi è un lavoro di veramente certosino c'è un mettere insieme Lo spunto glielo da lei? Sì gli spiego più o meno come si effettua questo lavoro e loro si imbattono in questa cosa con molto piacere tipo questo è un invito all'abbraccio perché attualmente noi avremo tanto bisogno di essere abbracciati soprattutto loro e si lascia mandare veramente l'amore come c'è scritto qui che mi cura e mi aiuta a vivere hanno bisogno di abbraccio hanno bisogno di comunicazione hanno bisogno di affetto questo invece è sempre un altro esempio di laboratorio di scrittura creativa in base alle loro parole poi scelgo i colori da associare qui invece ci sono dei collage di bigiotteria che avete sì cioè dei lavori di bigiotteria che avete preparato durante il laboratorio come si misurano i risultati in effetti lei come capisce che l'arte terapia sta facendo effetto c'è la ricerca della nostra presenza quando arrivano in reparto e quindi mi rendo conto che quando sto in fondo alla corsia del reparto e loro aprono la porta e vedono la nostra presenza loro sorridono perché molti mi hanno detto che comunque nelle giornate in cui hanno le terapie comunque loro arrivano che le loro preoccupazioni e quindi aprire la porta e trovare uno svago per loro è un senso di sollievo un po' rompere la quotidianità sì ma non molti di loro mi hanno mi hanno raccontato che a casa portano anche questi progetti continuano a lavorarci anche a casa mi mandano le fotografie o mi portano i manufatti delle loro creazioni e questa è una cosa bellissima e quindi è un viaggio all'interno di se stessi è un riscoprirsi un riscoprirsi secondo me è lei che dà i compiti a casa no no sono felice che loro lo fanno da soli perché evidentemente trovano piacere e questo me l'hanno confessato Raimondi la musicoterapia può potrebbe essere considerata anche un trattamento integrativo per il dolore assolutamente sì perché la musicoterapia che è fatta gran parte anche di un lavoro psicologico non ci dimentichiamo che i suoni ci raccontano qualcosa l'armonia ci racconta sempre qualcosa all'interno di un reparto e la musicoterapia è un diciamo che in questo momento è un nuovo canale un nuovo canale di relazione col paziente immaginiamo che l'infermiera o il dottore vede il paziente anche per 5-6 anni ripetutamente parlare all'improvviso anche di musica ok hai fatto musicoterapia avete cantato oppure domani arriva l'arteterapia domani arriva la musicoterapia anche questo aspettare l'infermiere in quel momento parla anche di altre cose quindi si spezza un po' quella routine e in più ovviamente c'è il dottore che ci fa fare un sacco di corsi sulla psico-oncologia un sacco di studi è una cosa bella della musica che comunque dell'arte in generale che armonizza tutto quanto il reparto non solo pazienti ma anche infermieri dottori familiari è un modo guarda io direi portate un sorriso in un reparto dove ci sono patologie ahimè purtroppo serie la gravità del paziente oncologico conta in queste situazioni? conta tantissimo perché se il paziente non riesce ad ambulare e ovviamente io devo usare una tecnica abbastanza particolare per non per non frustrare il paziente se non può muovere le braccia ovviamente io non posso dare strumenti che lui non può usare quindi c'è un avvicinamento e mi avvicino anche con con la sedia oppure a volte tante volte non si suona e non si canta ma si discute sulla musica poi porto dei libri che parlano di musica però ovviamente tutto questo gran parte delle volte è ascoltare il paziente anche lei come la dottoressa menini riesce a misurare a pesare gli effetti benefici di queste sedute di musicoterapia oltre che come diceva la collega che i pazienti ci aspettano e a volte arrivano con delle proposte come è capitato fino a due giorni fa le chiedono la scaletta dei bravi da padre si chiedono la scaletta e hanno anche delle cose bizzarre però ho una scheda tecnica diciamo dove c'è un nome e cognome provenienza la colonna sonora musicale e quindi i pezzi che piacciono e i pezzi che non piacciono su questa cosa è molto importante è un po' come la corrida che fa si sottopone i fischi i suoni i suoni ad esempio sono molto importanti certo e poi l'energia che ci si mette durante la seduta e appena finita la seduta controllo nella seduta successiva comincio a vedere le differenze se c'è una crescita oppure una decrescita del paziente siamo quasi in chiusura la dottoressa Mignini come la chiudiamo questa trasmissione dottoressa che consigli si sente di dare ai nostri telespettatori consigli riguardanti ovviamente l'arte terapia consigli guardi le faccio un esempio c'è una paziente di Pescara che spesso viene avvasto fa delle lavaggi o altro oppure ambulatorio praticamente arriva da Pescara a vasto perché c'è arte terapia o musicoterapia quindi questa possibilità di offrire al paziente oncologico la possibilità di esternare le proprie emozioni le proprie sensazioni le proprie paure perché non dimentichiamo che scoprire questa malattia è abbastanza pesante per una persona e dargli delle valvole di sfogo è importante e quindi questi laboratori servono immagino che per la musicoterapia sia la stessa cosa sì la stessa cosa e do un consiglio anche ai familiari di di usare questo canale che sia la musica che sia l'arte a casa sì a casa perché è un ottimo canale un ottimo canale e io aggiungo magari che queste bellissime manifestazioni di coinvolgimento dei pazienti oncologici possano essere stese in tutti gli ospedali non soltanto abruzzesi ma anche in tanti ospedali italiani grazie alla dottoressa Roberta Mininni grazie per essere stata con noi arte e terapeuta opera all'ospedale di Vasto grazie a Luca Ravaimondi musicoterapeuta anche lui opera all'ospedale di Vasto grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile Francesco Specchiulli in Regia Andrea Di Fabio in Poste Produzione grazie a voi tre spettatori per averci seguito con affetto e interesse anche questa settimana ci vediamo la prossima settimana tra sette giorni gli orari saranno gli stessi ma naturalmente tratteremo un altro argomento grazie e arrivederci grazie a tutti